Ciao a tutti ragazzi, qui è Porto Iomelcheparla e benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi ci troviamo in una location diversa, infatti siamo all'aeroporto internazionale di Napoli La mia destinazione è attualmente Amsterdam ragazzi, quindi andremo in Olanda Saremo dal 19 di dicembre fino al 22 dicembre C'è stato un piccolissimo problema, ovviamente la sfiga c'è a Tannaia sempre nella nostra vita Ed è che hanno messo il lockdown totale, quindi fondamentalmente una zona rossa in tutta l'Olanda Oggi, cioè tipo parte da oggi alle 5 di pomeriggio, a breve saliamo sull'aereo Ci stiamo per imbarcare, c'è un casino della madonna perché sta partendo un aereo dietro di me Siamo saliti finalmente sull'aereo, aspettiamo un attimo la partenza che dovrebbe essere in realtà tra una decina di minuti E poi ragazzi arriviamo ad Amsterdam, vi farò qualche clip di aereo carine, quelle solite cose no? La tratta Napoli-Amsterdam ragazzi dura circa 2 ore e 10, ma il volo è passato piuttosto velocemente ed è stato anche piuttosto confortevole Tra l'altro ero anche vicino al finestrino Allora ragazzi, appena arrivati, appena scesi, l'aeroporto è molto carino, devo essere sincero C'è un buon open space E niente, ora dobbiamo uscire, vediamo un attimo C'è un po' di merda Eh, c'è un po' un tempo che, insomma, a 7 gradi però non fa freddissimo Il mio bagaglio non c'è ragazzi, il mio bagaglio non arriva Ok ragazzi, finalmente è arrivata, questa qui che vedete è la mia 2, 1, aiuto Ok, ce l'abbiamo Siamo usciti ora dall'aeroporto e stiamo aspettando il nostro transfer Abbiamo avuto alcuni problemi a quanto tardi, però sta arrivando Ok, siamo dentro Allora ragazzi, siamo finalmente entrati in stanza Quindi vi faccio un velocissimo room tour Allora, non direi di partire dal bagno, direi di partire più o altro È la stanza che è veramente molto caratteristica, boys Tra l'altro adesso parco, una cosa che io, tra l'altro, amo Vi faccio vedere velocemente la vista che c'è da qui Siamo veramente nel centro di Amsterdam Quindi mi ritengo piuttosto fortunato Anche se, vabbè, la scelta, diciamo, non è stata casuale Qui si sale sul palco, broi E si va qui, nella stanza superiore Dove infatti dormirò Io e Jenny, bella Jenny Tra l'altro ragazzi, qui mi sono accorto Che c'è tipo una porta che si è aperta da sul tetto Ma noi ci dobbiamo per forza salire, fra No, dai Aspetta Oh, attenzione, fra, qua ti fai male Ok Com'è? È stabile, secondo te? No, però si può stare Ok, arrivo Così, no? Sì, metti il piede sulla linghiera Esatto Vai Esatto Mamma mia, fra Gravatissimo Non cadere Però è molto figo Tra l'altro non credo dovremmo essere qui, però Insomma Siamo fermati a mangiare un attimo Perché sono tipo le tre del pomeriggio E avrei un po' di fame In questo localino di dubbia provenienza Dubbissima provenienza Però è il tizio italiano Allora Siamo entrati nel vlog shop I miei amici sono voluti entrare immediatamente Ma non so che si vende da qui Scusami, che si vende? Camomilla Camomilla Ah, ok, a posto Allora, a posto Ok, serino Niente ragazzi Non vendevano camomilla Me ne sono accorto troppo tardi E sono scappato Non mi avranno mai Ora ragazzi Siamo alla Mr. Mocum Spero che specchiato si legga bene Io sto cercando di prendere attualmente Un American Coffee Tanto per trovarlo Ok, perfetto È arrivato poi Vi faccio sapere com'è Perché io non amo tanto il caffè Ragazzi, passiamo alla fase dell'assaggio Io ho preso quello lungo Sembra acqua fresca Però, proviamo comunque D'altro credo scotti tantissimo Perché fumo al sacco Mamma mia ragazzi Imbevibile E poi è caldissimo Ottimo Insomma, quindi credo che l'abbiate capito Il nostro viaggio sarà molto particolare Dato che non riusciremo a visitare Luoghi propriamente caratteristici Come musei O la casa di Anne Frank Per dire Perché sono tutti chiusi D'altra parte però Faremo un viaggio un po' diverso Dal solito Visiteremo luoghi Un po' più caratteristici Ecco, forse E infatti Stiamo camminando Sulla via Dell'Arlem Strat Che è una via perpendicolare I canali di Amsterdam E insomma, continuiamo Vi faccio vedere un paio di cose Che ci stanno qui Dietro di me c'è la Nuderkerk E diciamo Ce la siamo trovati sulla strada Mentre stiamo raggiungendo Invece il quartiere ebraico Dove è presente anche la casa Di Anne Frank Che ripeto Non potremmo vedere In quanto chiusa Però insomma Carina questa chiesa L'architettura qui Olandese Mi sta piacendo veramente Un sacco Alle porte Della strada Di Prinzengrand Al numero 263 Siamo finalmente arrivati Nel quartiere ebraico Questa infatti È la casa di Anne Frank Però ragazzi Fortunatamente da fuori Non si vede fondamentalmente Nulla Completamente zero Ho un peccato Non poterci entrare Però almeno L'abbiamo spottata E questa qui Siamo entrati in un Albert Ve l'avrò fatto vedere da fuori Che sono tipo Diciamo Non lo so I negozi Supermercati Semplici Olandesi E vi faccio vedere Un po' i prezzi Giusto Come metro di paragone Per esempio Qui ragazzi Una Coca Cola 330 ml Da 75 centesimi Mi sembrano Un po' più altini Di quegli italiani I prezzi Anche di un Di tanto Se devo dire Per esempio Qua ragazzi La San Pellegrino Sta venduta A 80 centesimi Che è circa 15-20% in più Alla versione italiana Quindi sì I prezzi sono decisamente Più alti Eravamo tornati in albergo E ora Stiamo andando a prendere Da mangiare E da buon Napoletano Quelle sono Per rivendicare Il mio status Napoletano Siamo sì Nella piazza Però stiamo andando A mangiare Al McDonald's Ovviamente Nel caso Lo stesse Chiedendo Quindi faccio vedere Cosa prendiamo Anche se è un McDonald's Quindi Il mio Un sacco di cose diverse Qui alla macchinetta È veramente molto figo Infatti Vabbè Molte cose sono simili Però c'è roba diversa Scusami Scusami Qui in Nederland Do you sell The Black Sbebond Menu The what? The Black Sbebond Menu The what? The Black Sbebond Menu Can you say it slowly? The menu What? Black Sbebond It's in Italian No? It's in Italian Ok 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 Vabbè boys Abbiamo preso le cose E ora ci dirigiamo In albergo Mangiamo E dopo Vediamo se scendere Probabilmente lo faremo Ma non so dove andremo Buongiorno boys All'alba del secondo giorno Qui ad Amsterdam La situazione è un po' Cambiata A livello meteo Perché fa molto più freddo Infatti Mi sono messo ragazzi Tipo maglietta intima Maglietta termica E felpa E spero che col mio giubbino Imbottito Non senta freddo Comunque Oggi il programma È di andare a vedere La famosissima città Dei mulini Di cui non so pronunciare il nome Ragazzi Farei una gaffa Quindi evito proprio Comunque questa qui Per raggiungerla però Dovremmo prendere Un treno Cosa che non mi piace tantissimo Ma lo faremo E tra l'altro Vi devo far vedere una chicca Che invece a voi piacerà Dalla mia camera d'albergo Ragazzi Si vede Quel palazzo lì Quello lì in alto Di forma triangolare Quello lì ragazzi È un palazzo Di Guerrilla Studios Di Guerrilla Games Ragazzi Qua si vede bene Leggete lì Sono proprio gli studi Guerrilla Molto carini Tra l'altro Vengono un palazzo Pichissimo Ragazzi Per mangiare qualcosa Di caratteristico Siamo andando da Dunkin E insomma Allora ragazzi Prendo una cioccolata calda Probabilmente piccola Credo sia meglio Questo è il piccolo ordine Ragazzi E paghiamo Thank you Allora Assaggiamo questa cioccolata calda Di dubbio provenienza Ah è buona Questa ci sta Questa ci sta E vabbè Somma Ragazzi Non c'ho più il cameramen Perché anche lui sta mangiando Quindi Cameramen Cameramen Ragazzi Qua comunque i programmatori Di Amsterdam Hanno sbagliato delle texture Vi faccio vedere Uh bra Cioè Fixatelo È proprio storto Ma io non lo so Cioè Ma come programmano Appena arrivati nella stazione Di Amsterdam Siamo diretti ragazzi Ora so come si chiama A Zanzeshanz Dobbiamo prendere infatti Il treno delle 12 e 13 Per raggiungere Questa città dei mulini Siamo arrivati Stiamo scendendo Siamo appena usciti A Zanzeshanz Ragazzi O meglio la stazione Vicino a Zanzeshanz Che è questa città dei mulini Di cui vi ho parlato In albergo E tra l'altro È un paesino Già molto più diverso Rispetto a Amsterdam Molto più caratteristico Sì Cioè Sì Ha una zona con le fabbriche Però Cioè Mi faccio vedere Come potete vedere ragazzi È molto più periferia Però non mi spiace Mi sa molto già più Di vita di tutti i giorni Non so Da qui ragazzi Si cominciano a intravedere I primi mulini Tra l'altro Ed è veramente Molto Molto caratteristico Ragazzi Comunque qui è veramente Molto molto bello Si vedono i mulini lì E ora entro in questo localino Che viene cioccolata calda È molto molto carino Ragazzi addirittura Potete creare La vostra cioccolata calda Con le vostre cose E fare tutto da soli Forse in prezzo di covid Non è il massimo Però è veramente bello Prossimo assaggio boys Vediamo un po' Questa cioccolata calda artigianale Sì L'artigianale C'ha solo La volontà Tra l'altro Non ve l'ho mai detto Probabilmente questo vlog Ma Amsterdam È famosa per i formaggi Infatti qui Ci sta tipo Un piccolissimo Museo Ma non credo sia definibile Museo Comunque una piccolissima entrata Diciamo un po' scenica Di quello che è A tutti gli effetti Un negozio di formaggi Infatti qua ci stanno tipo Esatto Le mucche che fanno finta di Fare i loro versi Evito di addentrarmi In termini che Sul momento non mi vengono E potrei fare gaff E qui dietro ci sono infatti Tutti i formaggi A caso E qui poi c'è Tutta la loro storyline Appesa ai muri Carino Allora boys Siamo appena tornati Da Zanz e Shanz Abbiamo preso Un po' di souvenir Da portare Di vario tipo E quindi nulla Credo che dovremmo Andare a mangiare Dato che sono le 3 del pomeriggio Torniamo velocemente Nell'albergo Lasciamo le cose E poi Andiamo a mangiare Che ho fame Attualmente stiamo cenando Con dei ciurro Devo ammetterlo ragazzi Mi sono dimenticato Di vloggare un sacco di cose E poi ho passato tipo 3-4 ore in albergo A non fare nulla Quindi niente Ora mangeremo qualcosa E poi credo che andremo Nel quartiere a luci Però non posso dire che è luci Tanto lo capito Ok Ragazzi siamo arrivati Ma non c'è niente E' tutto chiuso Per il lockdown Meglio Così posso filmare Sì ragazzi Decisamente Qui ci sono divieti ovunque E sì Questa poi Parlesemente Una finestrella Di quella tipologia Quindi niente Diciamo che siamo stati Un po' sfortunati Ripeto Ma almeno posso filmare così Finalmente Tornati in hotel Ragazzi Sono distrutto Ma non ci credo Che fosse italiano Era veramente Sono veramente distrutto Abbiamo preso questa cosa Non l'ho presa io Mi è stata data Però la mangerò E wow Vi faccio sapere com'è Anzi facciamo un assaggio al volo Ragazzi È pizza a cosa Ma pizza e biscotto Alla Formaggio Madonna mia Che cavolo Mamma mia Vabbè Avevo fame Ragazzi Siamo nella nostra Terza giornata Qui ad Amsterdam Ieri sera Mi sono dimenticato Di fare delle clip Perché me la sono presa Tipo a malissimo La vita Non farò intendere E quindi Ho pochissime clip Però stamattina Mi rifarò promesso E infatti Andiamo a prendere Le biciclette Ragazzi Ci faremo un giro Nel parco Vi farò vedere Meglio E niente Faremo cose Guardiamo Ragazzi Qui con un po' di gente In giro Già Ha tutta un'altra faccia Amsterdam Questa è piazza Damola Delle piazze Ovviamente principali Dove stiamo tra l'altro Noi vicino con l'albergo Non credo di avervela mai Fatta vedere con questo sole Quindi gg Ragazzi Credo che una cosa di questo tipo Di fronte a una chiesa Cioè A una cosa del genere Non credo Mi ci abituerò mai Comunque Per fare colazione Nonostante ormai sia Già mezzogiorno Siamo venuti in questo localino Molto carino In cui fanno Vabbè Un po' di speciale Però il cappuccino così È sempre figo da vedere Tra l'altro Credo sia Anche un po' per italiani Perché sono scritto Espresso con panna Allora ragazzi Abbiamo preso le bici È stato un mezzo casino Perché sono un po' complicato E poi coordinare più persone È un casino Alla sua volta Però ci siamo Ci dovremmo essere Non credo farò video qui sopra Perché sarà pericolosissimo Qui ad Amsterdam Sembrano i motorini di Napoli Queste biciclette Però Andiamo Siamo fermati in questo baretto Abbiamo parcheggiato Qui le biciclette Vi faccio vedere un attimo Meglio il tutto E vorrei fare qualche clip Sto da bicicletta Ragazzi Ma mi stavo accappottando E stavo venendo investito Da un classe A Quindi non credo sia il caso Ragazzi Tra l'altro Qui noi siamo arrivati In zona Van Gogh Museum Questo è tutto un quartiere Enorme tra l'altro Ve lo faccio un po' vedere Tutto così C'è un grande parco Tra l'altro E qui è tutta la zona Piena di musei Io sto con la mia bici È molto faticoso ragazzi Perché è una bici enorme Rispetto a quella Che probabilmente Avrei dovuto prendere Però fa nulla Comunque È solo esperienza È solo esperienza L'altro il mio corpo Mi ha appeso Corro I ragazzi Mi hanno ospitato Signori Dopo una serata Di follia L'ultima sera Stamattina Ci siamo svegliati Come i leoni La notte dopo E abbiamo fatto Velocemente le valigie Ora facciamo check out Poi dobbiamo andare A correre Per fare il tampone Che ci verrà dato Entro due ore E poi Alle tre Ci dobbiamo avviare Per l'albergo Solo che sono tipo Le mezzogiorno Undici Boh Siamo tardi È tardi Ok ragazzi Il tampone fatto Ora concludo Le ultimissime cose Per quanto riguarda Souvenir E cose di questo tipo Faccio anche colazione Perché la devo ancora fare Nonostante Ormai sia un po' tarduccio Sono le undici e mezza E niente Intanto aspettiamo I risultati Del tampone Che dovrebbero arrivare In un'ora Spero che esca negativo Altrimenti Dovremmo restare Ad Amsterdam Anche per Natale Che mi spiace Giusto perché Il lockdown Fosse tutto aperto Almeno resterei E vabbè Comunque Fate che non potrei uscire Però Niente Andiamo Ok ragazzi Tampone fatto Negativo Fortunatamente Ora si gira un altro po' E alle due e mezza Ci si mette nel taxi Per l'aeroporto Allora Ci siamo fermati In piazza A mangiare Io ho preso Giusto un hamburgerino Così ragazzi Molto sciallo Da 4 euro Socoso Ma anche a McDonald's Se l'avessi preso di sera E' stato più felice Qui invece abbiamo preso Dei noodles Tipo Cibo Strano E niente Ok ragazzi Quindi Lasciamo il nostro hotel E raggiungiamo Il nostro rider E' un dispiacere Lasciare Amsterdam Così presto ragazzi E' un dispiacere Lasciare Amsterdam Ma sono sicuro Che ci tornerò Senza lockdown Per godermela appieno Becca di stare Aereoporto De Amsterdam Appello un cazzato nero Passiamo qui E andiamo Ragazzi Dato che avevamo fame Ho preso uno di quei Bruttissimi panini Aereoporto E ora ci stiamo Direggiando il gate Tra l'altro Qui c'è un bellissimo Tramonto E quindi niente Ci tocca camminare Perché il gate E' lontanissimo E' tipo l'87 D87 Che è l'ultimo Però Dell'intero aeroporto Quindi insomma Devo raggiungere Un altro paese Per partire Siamo in aereo A breve partiamo Dovremmo arrivare Alle sette e mezza Sono circa due ore Di viaggio E non approfitto Per editare Un po' Il tutto Inizi dall'aereo Ragazzi Siamo arrivati All'aeroporto Di Napoli O meglio Siamo tornati All'aeroporto Di Napoli E ora Ci tocca Recuperare I nostri bagagli E si conclude Così ragazzi Il nostro viaggio Da Amsterdam Siamo tornati Nel nostro studio E' stata un'esperienza Molto formativa Vloggare assieme Spero infatti Anche di migliorare Nei prossimi viaggi Che faremo Il mio editing Ed è probabile Anzi quasi sicuro Dei prossimi vlog Ragazzi Travello vlog Verranno pubblicati Sul mio secondo canale Che spero di aprire Entro la fine Di quest'anno Vi terrò aggiornati Ovviamente Con tutte le info Sui miei social Compreso qui su Youtube Quindi mi raccomando Buone feste Buone vacanze Spaccate i videoci E ci si becca nel 2022 Ciao Baits